come microbiota. Io sono Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista e questo è l'alfabeto nutrizionale. Bene amiche e amici, rieccoci nel concetto appuntamento settimanale con il mio podcast L'alfabeto nutrizionale, nel quale lettera dopo lettera andrò ad esplorare vari aspetti della nutrizione e della salute in generale. Oggi è il turno della lettera M, M di microbiota.